A volte ritornano, messi da parte forse un po' frettolosamente, riprendono il proprio posto. Storie di allenatori e presidenti, storia di Marco Nappi e del Montalto. Il tecnico romano torna sulla panchina silana dopo due mesi di stop. Era stato allontanato dalla squadra bianco-azzurra dopo i poco convincenti risultati portati avanti nella prima parte del torneo di Serie D. La pesante sconfitta con il Neapolis era stata la goccia che aveva fatto traboccare il vaso. Il suo successore, Altomare, non ha fatto meglio. Anzi, solo quattro e i punti conquistati in otto partite. Un trend che lo ha spinto a farsi da parte e lasciare campo libero al Nappi secondo. Il 4 gennaio alla ripresa del campionato ci sarà la foca a guidare il Montalto nel derby tutto calabrese contro la nuova gioiese. Uno scontro diretto per la salvezza in cui Nappi è pronto a prendersi la sua rivincita.